Che profumino! Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video ASMR mukbang. Oggi prosciutto e melone, un grande classico degli antipasti italiani. Questo è un prosciutto san daniele, il melone. Non ho bisogno di spiegazioni. Inoltre abbiamo preparato un succo di melone e questo bellissimo e carinissimo cestino di melone oggi. Questo è il nostro pranzo, noi non abbiamo mangiato altro. Sarà un pranzo tutto a base di melone. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito. C'è un po' molto buono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.